Come capire se è una scroccona? Bisogna imparare a capire se hai a che fare con una donna scroccona perché le donne scroccone non servono a niente fondamentalmente cioè nel senso che fanno soltanto, come dire, perdere tempo, perdere denaro e poi alla fine non valgono assolutamente nulla Tu osserva come ti comporta, sei appena conosciuta, uscite Vedi se magari dopo la prima uscita in cui giustamente siccome tu le inviti offri, se dopo lei fa qualcosa, contraccambia magari una seconda uscita, una terza uscita Ma non è questione, è proprio questione che in una relazione ci deve essere un do-to-des Quelle che si pongono come, ah tu mi devi offrire tutto Io non, ancora grazie, se diciamo ti degno della mia compagnia Quelle che si pongono in questo modo, levatevele dalle palle perché sono inutili Quindi osservate e poi giudicate e toglietelo dai maroni Metti un like con l'abbonamento base Segui tutti i miei seminari Ciao a tutti